X Factor Ogni anno arriva quel momento in cui le luci si riaccendono e questa splendida macchina si mette in moto. Passione, sudore, emozioni e tanta musica. Quell'ansia che piano piano, quando la diretta prende il via, riempie i corridoi. Tante le persone che lavorano instancabilmente giorno dopo giorno. E nessuno che mi abbia avvisato che evidentemente X Factor quest'anno non si fa più qui. Scusi. Aurora Ramazzotti, conduttrice del Daily. C'è qui Aurora Ramazzotti. No, ma guardi che io devo andare a lavorare adesso, devo condurre il Daily. Tipo, sono già in ritardo. X Factor riapre i battenti e cambia casa. Quest'anno lo fa con uno studio completamente nuovo. Qui prende forma lo spettacolo che tutti conosciamo e che tutti stiamo aspettando. Siete curiosi di vedere il nuovo teatro? Venite con me! Questo è il Corredoio dei Giudici. Qui è dove accade la vera magia del giovedì. Dove c'è tutta la confusione nella giornata del live. Meraviglioso. Tutto un forte non funziona. Vabbè, per giovedì funzionerà sicuramente. Adesso percorrerò gli stessi passi che percorreranno i ragazzi ogni volta che saliranno sul palco di X Factor. I microfoni. Non li tocco, eh. Ci sono voluti mesi di lavori. Più di 200 persone hanno lavorato intensamente per creare tutto questo. È un palco enorme. Pensate che solo per le luci parliamo di tre console da 40.000 canali che guidano più di 1.000 luci motorizzate e la striscia di letto misura più di mezzo chilometro. E poi vorrete sapere della musica. Vi dico solo che queste 50 casse hanno una potenza complessiva di più di 35.000 watt. E delle camere! Ma succede se tiro uno di questi fili? Forse non voglio scoprirlo. Questo è il tavolo dei giudici. Tutti studiano di sedersi qui un giorno. Funziona questo. 30 secondi di fumo basso. Com'è che sta a mano? Tipo la blatta da un ruolo. E qui c'è Alvano. Questi sono i posizionamenti per il primo live sia per i cantanti che anche per gli strumenti. Che figo! Benvenuti a X Factor 20 signore e signori. Oh che figo! È bellissimo, sembra una nuvola. Qui è quasi tutto pronto per la prima puntata. Io vi aspetto sul sito www.palco.it dove troverete tutti i backstage dei live e tanti altri contenuti esclusivi offerti da Intesa San Paolo. Grazie per la visione!